Siamo alla chiusura della mostra e mi sembra che sia andata molto bene, sono venute molte persone e quindi io personalmente sono soddisfatto, adesso chiederò anche agli altri artisti se sono soddisfatti come me, il posto è molto bello come vedete e niente alla prossima mostra Dicci qualcosa di questa mostra, com'è andata sicuramente? Allora molto bene, mi sento bene, il posto è eccellente, bellissimo e sono contenta Ne faremo altre? Sicuramente Impressioni su questa mostra? La mostra di arte moderna che potrebbe essere in giro per il mondo, siamo qua, il castello si sta bene E' un bel posto, grazie Dicci che ne pensi, com'è andata? Benissimo, guarda, mi sembra che il flusso sia stato abbondante e interessato Benissimo, specialmente per le mie opere Bravo, è giusto Così era improvvisato? Sì, così, cosa pensi, com'è andata questa storia? Già il fatto, dopo la pandemia, di ritrovarci cinque amici a esporre nello stesso posto per me è un obiettivo raggiunto L'imparazione L'imparazione che è già trovato al cuore, che può sondere pure, se vai a vedere anche qui, specialmente in questo mondo Grazie Grazie Tu che ci hai ospitato, secondo te com'è andata questa storia? E' andata molto bene. Guarda, anche io, a nome di tutti, ti vogliamo ringraziare per l'ospitalità che è stata veramente squisita. Gianluca, tu sei stato la colonna portante di questa storia. Grazie mille. Grazie a te. Alla prossima. Alla prossima. Ciao.